Romano, 57 anni, tutta una vita passata tra le manifestazioni di piazza e la caccia ai terroristi. Lamberto Giannini, il nuovo capo della polizia, raccoglie il testimone da Franco Gabrielli, dall'unidiscorso sottosegretario dei servizi di informazione e sicurezza. Sorreso immancabile, disponibile, ascoltatore attento, frequenta tuttora gli agenti conosciuti quando era alla Digos di Roma e la garanzia dei questori della capitale durante le manifestazioni di piazza. Arresta i terroristi rossi responsabili degli omicidi d'Antuno e Biaggi. Cattura a Roma nel 2015 uno dei foreign fighters che aveva tentato di farsi esplodere nella metropolitana di Londra. Spostato con una collega, due bimbi piccoli accompagnati a scuola ogni mattina, Giannini adora la famiglia, l'unico altro amore, la sua squadra, la Roma.